essere presentato da questi personaggi e in questo contesto, parliamo del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, il Sindaco di Asti, ci sono diversi assessori regionali, Balocco, Sindaco di Bra, scusate, ho partecipato prima a una riunione del contesto Alba Asti, chiedo scusa alla Sibille e non vorrei dimenticare qualcuno, so che l'assessore Valmaggia, sono diversi assessori della città e diversi consiglieri comunali, quindi questo da un lato mi gratifica, mi onora e mi fa molto piacere, anche se non nascondo una certa attitudinanza, la responsabilità dell'incarico, quindi la cosa indubbiamente da certi aspetti mi preoccupa, però in fondo in fondo ho due tipi di serenità, prima la serenità che mi deriva dal fatto di essere stato scelto dopo un certo travaglio, perché i taluti nascondono, e trovo delle analogie, io sono un padre di tre figli, nonno di cinque nipoti meravigliosi, e ricordo la nascita della mia prima figlia, che è stato uno dei giorni più belli della mia vita, poi devo dire, tra parenti, io professionalmente ho un debole per le signore, perché professionalmente ho sempre lavorato nel tessile paravigliamento femminile, secondo, tutti gli esseri umani sono nati da una donna, quindi questo sovente lo dimentichiamo, questo lo voglio dire per inciso così, e dicevo, come tutte le cose travagliate, sì, c'è il momento del travaglio, però quando il travaglio è finito si prova una gioia immensa e si acquisisce quella forza di andare avanti con una determinazione, questo è il sentimento che provo in questo momento.